Sabato 9 luglio alle ore 21 in Calata Cuneo ad Imperia il coro Mongioie si esibirà in un concerto gratuito aperto al pubblico. Proporremo un'ora di concerto, spiega il direttore del coro Ezio Vergoli, con un viaggio nel tempo e in luoghi lontani per un incontro con culture e stili musicali ogni volta differenti. Inizieremo con l'Italia e il canto popolare, passando poi a melodie del passato cantate dal quartetto Cetra, per spostarci quindi a Cuba, in Brasile e in Argentina, fino a fare ritorno in Europa con un brano rinascimentale. Ma non ci fermeremo qui, prosegue ritornando a viaggiare verso l'Africa per poi muoverci verso gli Stati Uniti ai tempi della nascita dei primi brani gospel. Il coro Mongioie proporrà infatti anche un brano jazz strumentale in versione a cappella, ovvero eseguito solamente con la voce senza nessuno strumento musicale. A chiudere il concerto un omaggio alle origini montanare del coro e poi un particolare buonanotte ancora una volta sulle note del quartetto Cetra. Il coro Mongioie è reduce da una stagione ricca di successi con la partecipazione alla scorsa edizione del Dopo Festival e a festival internazionali come quelli che lo hanno visto recentemente a Friedrichhafen, città tedesca gemellata con Imperia, e a Biarritz nella regione atlantica dei Pirenei in Francia. Tra le sue recenti iniziative anche la partecipazione ad un flash mob realizzato ad Arma di Taggia. Zara amore a No se lo deja a nadie, se lo lo lindo que va a tocar. Esa è una muna che tiene, se lo lo lindo per la bocca. No se lo deja a nadie, se lo lo lindo que va a tocar. Ai, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran y sonidos en los corazones. Ai, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran y sonidos en los corazones. Lindo mi corazón, lindo mi corazón.